Poi, gentilmente, Dominic fa gli onori di casa e offre dei dolcetti ai due. È per noi? Sì. Uno a me. No, un a te. Tu non devi mangiare, tu stai a dieta. Ma chi? Bufalone? No, lui è a dieta, è a dieta. No, perché io faccio... Ah, vedi, c'è la dieta coppa a selva di vasà. ...e magari con Mike Tyson. Ah, si è messo a dieta perché ci crede veramente di far l'incontro con Mike Tyson. In Beautiful, tu pensi di rimanere sola o tu pensi di andare ancora da altri mariti, altri amanti? No, stop. Solo con Ridge, o con voi. Come? Come? Ridge è con noi? Sì. Ha fatto una battuta, ha fatto. Brooke, attenta che questi non capiscono. Poi ci credono davvero. Eh, vabbè, posso baciare anche al marito. It's in the show. Dominic, fermali, ti prego. Due idioti. I fall in love for you. Oh. Gli erita in faccia. That's not romantic. Ma manco lo sa cos'è il romanticismo. Purtici i fiù. Non ce li mettere sotto, sennò sembra che è morto. Eh, non ce li mancherà il capo, no. Che già sta con la gamba. Ma la volete finire? Ha un champagne. E che ha già fatto? Che fa la storia che brucia a Brooke. Figurati se poteva mancare la storia su Instagram. Vai. Adesso il Messicano proverà con Brooke. Amore numero uno. Qua Brooke si è sfraganato. I think that you are the best girl in the world. Oh. And this is for you, champagne. And this is for you, flowers. And this is for you, someone. Oh, no. Grazie a tutti